Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'Anci, Anci.it e dell'autorità dell'energia, Arera.it. Estra, l'energia che ti è accanto.